Ayayayyy Senti io i sono rotto di camminare e te lo dico subito e mi fa venire i cammini comfiti Ma scusa si poteva venire in macchina? Infatti è quello che ho anch'io Ho capito ma chi è che guidava? GUIDAU heavy guarda io c'ho una'patente sai Aaaa KNOW he too c'ha la'patente? Si si, l'ho presa quando era sotto in Militare hm perchè te ti sei buenta anche in Militare? Sopanzi altrimenti ce ne sono fatti Comunque andiamo via da qui, perché se ci tirano i carabinieri e ci fanno un culo così, allora restiamolo. Senti, ho un cliente, che si fa? Si manda via o si prende? No, pigliamo, si manda via, pigliano. Che si fa? Si manda via o si prende? Questo è davanti. Si piglia, ragazzi, non si piglia, ma si piglia. Sì, ma mettiamoci d'accordo, chi lo prende? Lo prendi te, prendilo te, prendilo te, prendilo te, prendilo te, lo hai scelto te. No, poi ieri sera tu l'ho preso io, ora tu lo prendi te. Ma te l'ho capito, lo prendo io. Ragazzi, lui quando c'è la pignola non è sempre il primo. Perché io sono l'Oligio. No, perché tu sei di molto buono. E io ho vittato un concorso di bellezza, sai? Ah si? Quale? Mi spoglio. No, mi schifo. No, capito un concorso di bellezza anche te? No, e mi schifo se tu ti spogli e te. Vabbè, ascolta. Sì. Torniamo di lavoro, forza. Torniamo di lavoro. Allora, oh, mentre venivo qua ho trovato un cliente, eh. Ah si? Si, un tossico. Che tu gli ha detto? No, stasera sono in pena, eh. Pazzicco, lui vuoi scarificarmi il fratello? Sì. E che mi fa? Io, a differenza di qua, sono una persona onesta. Oggi ho venduto un materasse. Venti paia di infatti e quella mia con tante euro. Lei lo è nel mercato. Io qui, con un materasse senza mutante, non guadagno 800. Tornata. Ora io lascio la ponte. Perché gli anni che mi compri hanno un tumo fatto nei mediaguri. Ah facciamoli tutti insieme. Signori, auguri! A presto!